Un grande successo, intanto parziale dei dati del Natale che non ti aspetti, solo nel weekend dell'Immacolata abbiamo avuto circa 60.000 presenze da tutta Italia, un grande successo, ma il successo è dei volontari e dei territori, perché hanno vinto due persone, cioè la personalità del territorio e la persona fisica che è il volontario. È una grande programmazione di eventi che racchiude il Natale che non ti aspetti, che grazie alla Regione Marche, al contributo degli sponsor, soprattutto al main sponsor, l'LC Mobile e Villa della Cerbara, che hanno contribuito a promuovere sempre meglio e sempre di più i nostri territori. Grazie a questo grande lavoro di squadra che abbiamo messo in campo, siamo riusciti ad avere dei risultati straordinari e anche un'immagine straordinaria della nostra provincia e della nostra Regione, l'evento unico nella nostra Regione Marche. Per noi è un motivo di grande soddisfazione, soprattutto perché i volontari hanno dato veramente, veramente tanto e questo è il successo, la presenza di tanti turisti, tanti pullman da tutta Italia, tanti camper, tante macchine, tante famiglie che hanno soggiornato nei nostri alberghi, nelle nostre strutture ricettive, soprattutto hanno acquistato prodotti del nostro territorio perché proprio il nostro intento è promuovere l'architettura, quindi la storia, promuovere i prodotti tipici agroalimentari del nostro territorio e anche l'artigianato artistico perché grazie ai nostri mercatini sempre di più incentiviamo anche i ragazzi, i giovani a lavorare, a usare il proprio ingegno, cioè quindi il legno, il rame, tutto quello che deriva dalla manualità, quindi tutto l'artigianato artistico. Diamo un valore perché se portiamo turisti e i prodotti vengono venduti, sempre di più c'è richiesta di fare l'artigianato artistico, di produrre il prodotto, cioè la materia prima dell'agricoltura, quindi un grande connubio che io spero che sempre di più si unisca tra tutte le forze e che tutte le forze ci vengano a traino per aiutare un grande progetto che non aiuta la singola persona ma stiamo aiutando un territorio, un'economia straordinaria del nostro territorio che la vediamo ormai sotto gli occhi di tutti, io penso che nella Regione Marche oltre ad essere l'unico evento che catalizza ma è stato anche l'unico evento che è riuscito a promuovere su tutte le televisioni nazionali la nostra bellissima provincia e la nostra Regione Marche.